Penso che lì è più chiaro di tutto. Riyad ha fatto telefonata, abbiamo parlato a lungo. In questo momento lui ancora non è tornato sui propri giri, manca l'energia. E ha chiesto lui tempo di riflettere prossimamente. E ha chiesto lui tempo di riflettere prossimamente. Come ho detto, porta per nessuno è chiusa e si valutera sempre da giorno a giorno. Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.